Buonasera Salvini, parliamo di questo scandalo dei commercialisti su cui sta indagando la magistratura, no? Che insomma pare anche questi 49 milioni famosi. Il famoso scandalo dei commercialisti. No, va bene, stanno parlando tutti. Secondo lei agli italiani interessa parlare dei miei tre commercialisti? Eh. O della favola dei tre porcellini? Cosa c'entra? Che nessuno racconta più perché mancano le maestre. Ma cosa sta dicendo? Allora io rispetto la magistratura, rispetto i giudici. Sì, bravo. Rispetto i giornalisti. Bene. Ma esigo rispetto anche per i tre porcellini. Ma cosa c'entra? Lo sa che il lupo Ezechiele adesso è disoccupato, poverino? Alla follia. Lo sa quanti lupi Ezechiele italiani ciondolano nei bar in attesa di rientrare nelle fiabe italiane? Ma cosa sta dicendo? Senta invece, questi 49 milioni, no? Hanno cercato i soldi in Russia? Sì. In Turkmenistan? Alle Bahamas? Ma no. In Afghanistan? In Papa Nuova Guinea? Ma no, no. Alle Samoa? Ma non credo. Nel ultimo, per chiudere il risico, nel Queensland. Ma cosa sta dicendo? C'è mai stato nel Queensland? No, guardi, no. C'è la barriera corallina? Sì. Io ho sempre sentito gente dire che ha visto il pesce pagliaccio. Sì. Dory. Sì. Walt Disney. Sì. Non i 49 milioni della Lega in mezzo ai coralli. Ho capito. Mi fa parlare di Dory, di Disney, del pesce pagliaccio. No, invece dovrebbe parlare di questa famosa cena, no? Con i commercialisti. La famosa cena. Sì. Allora, io faccio 30-40 cene al giorno. Cosa sta dicendo? A colazione faccio la cena con gli assessori. Ma no, vabbè, ma... A pranzo faccio la cena con gli avvocati. Ma cosa dici? A cena per lavoro rifaccio la cena con gli amministratori, con i sindaci, con i commercialisti. Sì. Perché gli italiani lo sanno, io di lavoro mangio. Ma questo è vero. E quindi, vuole che faccia lo sciopero della fame. No, non voglio che... Pannella. No, ma lascia stare. I radicali. Lasci stare, lascia stare. Ci dica invece che fine hanno fatto questi soldi. Non ci sono più. Ma come? Sono stati spesi. Ma come li avete spesi, 49 milioni? I volantini, volantini elettorali. Ma no. Fatti di carta italiana. Ma ho capito. Estratta dalla cellulosa di pioppi italiani. Ma cosa sta dicendo? Non sa quanto costa tagliare un pioppo italiano nella pianura padana italiana? No, no. 16 milioni solo di boscaioli. Ma bene, va bene. Manifesti elettorali. Sì. Fatti dagli artisti di strada. Ma non posso. La Lega ha speso dei soldi. Oddio, in banks italiani. Ma cosa sta dicendo? È un reato spendere i soldi in banks italiani. Le do un dato. Sì. Non sa quanto sono costati solo di pennebiro agli italiani? Cosa? Le vostre spese? Alla Lega, 9 milioni di pennebiro. Ma non ci credo. 10 milioni di donne delle pulizie. Certo, italiane. No, nigeriane. Ah, nigeriane. Gli italiani non hanno più voglia di lavorare. E così si è costretto a prendere le nigeriane. E certo. Ti strappano i rosari dal collo. No, quelle sono la mera congolese, ma non importa. E ricompra i rosari. Sì. Due milioni di rosari. Eh, ecco, forse troppi. 600 mila euro di Voltaren. Per cosa? Perché ci ha lasciato il segno. Poverino, scusi. Muscorino, 800 mila euro. Perché? Spalla indolenzita a forza di fare i selfie. Perché ne fa troppo. Lo sa quanto ho speso solo di brioche? Eh. Con la crema e il cioccolato per calmare l'ansia. Non ci voglio pensare. 3 milioni. 3 milioni. 1 milione e 8 di pile per megapoli. 600 mila euro di lava secco. Per cosa? Per togliere la passata di pomodoro dalle camicie. Perché attore del greco, pum, 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 pum. Mi sono arrivate dappertutto. E certo. Ho preso pomodori. Sì. Peperoni. Melanzane. Io sapevo solo di pomodori. Ma resta allora, portali in lavanderia. E certo. Le prendi. Restano gli aloni. Va bene. Ricompra le camicie. Altri pomodori. Perfetto. Senta. Soldi non ce ne sono più. Ma non è possibile. Posso dire una cosa? Sì, la dica. Se trovo i soldi me lo può dire che ne ho bisogno. Ma per cosa? Come per cosa? Perché se mi trovano, a me, no. Se trovano i soldi, mi servono gli avvocati. Sa quanto mi serve di avvocati? Le do un dato. No. 49 milioni di avvocati. Tutto torna.